Un canale di spaccio che partiva dai comuni vesuviani e torre annunziata, arrivando fino a Scafati Pagani e Noceri Inferiore. Vendevano cocaina e marijuana, ma prestavano anche danaro, dando mazzette a collaboratori. Soldi dunque prestati, ma anche confezioni di dosi di droga che talvolta venivano chiamate nelle telefonate come caramelle. Nelle intercettazioni poi si racconta di chili che nel gergo dei criminali vogliono significare, parlare di grammi di cocaina oppure hashish. Nella rete in totale anche sette soggetti dell'agro, tre di Pagani, tre di Noceri Inferiore e uno di Scafati, 21 quelli finiti nel mirino della procura di Torre Annunziata bloccati durante lo spettacolare blitz dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli, di cui abbiamo parlato ieri. 19 agli arresti, 2 con obbligo di dimora, 3 coinvolti a vario titolo nell'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il loro intento è raggiungere facilmente ogni fascia d'età che aveva necessità di procurarsi la droga. La banda si muoveva ramificata su un vasto territorio, dunque arrivando ai più giovani ma anche a professionisti conosciuti del territorio stesso. Numerosi gli episodi di spaccio accertati, con l'utilizzo di sim card cambiate di volta in volta per non farsi rintracciare e documenti contraffatti per eludere i controlli. Tra gli avvocati difensori delle persone arrestate anche Annalisa Califano e Alberto Attianese. Va sottolineato che il GIP ha osservato che dalle intercettazioni telefoniche si evince che c'è la prova dell'accordo per l'incontro e l'acquisto di droga, ma non è certo se poi questi incontri ci siano stati realmente. Le indagini andranno dunque avanti per appurare se questa banda avesse organizzato una vera e propria piazza di spaccio, così come si sottolinea comunque più volte, visto che viene definita da tutti gli organizzatori della banda stessa un'attività professionale per la vendita di droga. Da evidenziare anche le figure delle donne invischiate nella vicenda, figure affatto marginali tra cui il ruolo di moglie e compagne degli indagati, definite spesso le cosiddette capitane come da intercettazioni e da ordinanza.